Madre, moglie e sorella aveva anche un suo attivissimo fronte femminile, tutto in famiglia, l'organizzazione che da anni avrebbe gestito la maxitruffa all'Enel scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Già alcuni giorni fa era stato fermato Nicolo Regina, 32 anni, di Castelvetrano, ritenuto la mente della banda, e il suo socio Alessandro Ingarra, 29 anni, di Vigevano. Ora le manette sono scattate anche per Anna Gianmarinaro, di 62 anni, e Carmela Regina, di 29, rispettivamente madre e sorella del principale indagato, entrambe originarie del Trapanese, e sua moglie Veronica Rosa, di 32 anni, di Abbiategrasso, da qualche tempo residente con il marito a Tenerife. A dare il via alle indagini della Guardia di Finanza era stata un anno fa la denuncia dell'Enel. È venuta così alla luce una truffa complessa basata su un articolato sistema di volture che consentiva all'organizzazione di mantenere in funzione i contatori e dunque a garantire l'energia elettrica ai clienti, anche se il denaro delle bollette versato da questi ultimi non arrivava all'Enel, ma veniva dirottato su altri conti privati. Secondo quanto emerso dalle indagini, tutte e tre le donne avevano un ruolo da protagoniste. Dalle Canarie venivano impartiti gli ordini a tutti gli altri componenti. Era la moglie di Regina, infatti, a gestire la fatturazione delle finte bollette che compilava e trasmetteva ai complici, i quali poi intrattenevano i rapporti con i clienti. A occuparsene era in particolare Carmela Regina, incaricata anche di riscuotere i pagamenti, quasi sempre in contanti e di interagire con l'Enel per volturare i contatori. Quanto alla Gianmarinaro, era lei a gestire la cassa, conti correnti e transazioni bancarie, tutto era nelle sue mani. I conti gestiti dalla banda sono stati sequestrati. Secondo la Guardia di Finanza, l'ammontare della truffa sarebbe di oltre 2 milioni di euro.